If you ain't got that thing, don't mean a thing, if you ain't got that thing In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu Alex Belli è assodato, sa ballare, insomma, è cresciuto, sa recitare, ha fatto il conservatorio, io sono al piano, l'abbiamo sentito, sogni cinematografici E fare una tarantinata con Tarantino sarebbe uno dei sogni utopici, perché poi alla fine io sono appassionato di tutto ciò che è l'action movie Senti, e quando ti fermano per strada le ragazzine, dopo ballando è cambiato qualcosa o è come prima? Beh, tecnicamente sai, io sono in onda tutti i giorni con un prodotto pomeridiano La popolarità di ballando è solamente allargato, c'è della gente che mi chiede di ballare insieme Questo è l'unica differenza Cos'è l'amore per Alex Belli? È tutto, sai quando si dice che l'ispirazione per l'artista deve essere una forte emozione La mia ispirazione di vita è l'amore, io ho una grandissima fortuna che è avere una donna a mio fianco che ci amiamo da 4 anni e mezzo Che consiglio dai a un giovane che vuole intraprendere la via dello spettacolo? Non seguire la popolarità effimera, ma seguire la professionalità Oggi abbiamo bisogno di professionalità, tutto il trash televisivo sta andando scomparendo e chi va avanti e chi lavora e chi realmente sa fare qualcosa Mi sto svelando un segreto, è il mio passatempo, quello che utilizzo nella mia vita per sfogare tutte le idee che ho è la fotografia Queste sono foto che faccio io, che scatto e poi vengono stampate su questo supporto che è l'alluminio e poi faccio lavorazioni col fluo, con la resina sopra è tutta una collezione di alluminio, soprattutto ritrattistica Lei chi è? Lei è l'amore che mi chiedevi prima Lei è Caterina La mia metà che mi completa con lei che mi dà la possibilità di avere anche queste ispirazioni artistiche E questo, questo è quello che io faccio al di fuori di tutto al di fuori del set, al di fuori della musica al di fuori del nostro mondo così caotico dello spettacolo Mi sfogo così Il passo doble? Sicuro Guarda, l'unica cosa che mi ricordo è l'impostazione delle mani e dei piedi Ci provo perché Ciao Alex, buon lavoro Ciao